Ritardi nell'erogazione dell'istoria all'impresa abruzzesi e in generale una critica sull'andamento della fase attuativa delle norme Cura Abruzzo 1 e 2. E' quanto denunciano i consiglieri regionali abruzzesi di centro-sinistra che questa mattina in una conferenza stampa nella sede dell'Assemblea Legislativa hanno fatto il punto sulle presunte criticità dell'esecutivo. Erano presenti per il PD i consiglieri Paolucci, Pepe, Blasioli e Pietrucci, poi Di Benedetto per Lenini Presidente e Marianna Scoccia del gruppo misto. Anche il consigliere Sandro Mariani, seppur rassente, ha condiviso gli intenti dell'iniziativa politica. L'incontro, hanno detto gli organizzatori, porrà le basi per una più dura opposizione in Consiglio e un maggior coinvolgimento delle parti sociali. Sentiamo le dichiarazioni di Paolucci, Pepe, Di Benedetto e Blasioli. A un anno appena il 40% delle risorse sono state trasferite, di 200 milioni circa 80, 120 sono ancora al palo, ancora più grave il dato per le imprese, su 96 milioni di euro le imprese sono arrivate appena il 30%, circa 25 milioni, ultimi, terzultimi e penultimi sui tre fondi europei, ancora fermi 549 milioni di euro. Hanno promesso quasi 200 milioni di euro un anno fa, a un anno dall'approvazione di quelle leggi pochissimo è arrivato sui conti correnti di imprese, comuni, famiglie. E poi le vicende soprattutto delle casse di riposo, hanno lasciato a piedi tanti lavoratori delle casse di riposo che non ricevono lo stipendio, addirittura sono arrivati a chiudere una casa di riposo, quella di Sant'Omero. Avevamo detto che bisognava aumentare la capacità di risposta da parte della struttura regionale costituendo una task force, avevamo detto che dovevano essere dati in anticipo i fondi in alcune realtà sofferenti come i somministratori di alimenti e bevande, voi sapete ristoranti, bar, quelli che sono rimasti chiusi. Nulla di ciò è stato fatto e stiamo a un anno dall'approvazione del cura Abruzzo 1 e a poco meno di un anno dalla definizione delle procedure di ammissione a finanziamento delle attività produttive incise e molti ancora devono avere i fondi. Il mondo dell'infanzia, 0-6 anni, le scuole, gli asili chiusi, in realtà non hanno avuto neanche i ristori per le chiusure dello scorso anno. Parliamo di 150 euro a bambino, non sono arrivate, molti asili sono in grande difficoltà. E poi ancora le zone rosse, la Vestina, la Valfino, Caldari di Ortona, alla Pasqua dell'anno scorso erano in grande difficoltà con chiusure veramente importanti e rigide. Avevamo stanziato come centro-sinistra un milione e mezzo di euro per le piccole e micro imprese di quei comuni che avevano subito quelle zone rosse. Per gli uni e per gli altri non è stata fatta neanche la variazione di bilancio che permette di attivare il bando.